in una notte lontana due bellissimi ladri nascosti tra ombre e oscurità decisero di rubare in un museo alcune opere molto rare una alla volta ma distratti ed allarmati da alcuni rumori ridisposero l'aria furtiva attentamente una volta passata la paura di venire scoperti rubarono di nuovo tutte le opere sempre una alla volta e solamente una volta usciti dal museo si accorsero che nei loro sacchi non vi era alcuna opera perché le opere quasi come per magia erano tornate al loro posto un'altra volta un'altra volta un'altra volta si un'altra volta Grazie a tutti.